Gara di solidarietà per il canile comunale di Noce e Mattei di Sulmona che attende l'erogazione dei fondi di maggio, giugno e luglio 2018. Ieri a lanciare l'allarme era stata la presidente dell'associazione Code Felici Gabriella Tunno che questa mattina ha formalizzato l'esposto al commissariato di Sulmona per chiedere di accertare eventuali responsabilità. Oggi intanto è stata la solidarietà sulmonese ad avere la meglio che anche nei mesi scorsi quando la struttura era in difficoltà si sono sempre rimboccati le maniche per gli amici a quattro zampe. All'associazione Code Felici sono arrivate crocchette, cibo e scatola, pane da cucinare. Secondo la Tunno, dal primo luglio, tutti gli accrediti si fanno online e questo ritardo sta mettendo in seria difficoltà il canile, da qui l'esposto alla polizia. Diversa la tesi che arriva da Palazzo San Francesco, laddove fanno notare che esiste un termine di 60 giorni nel contratto di gara, già scaduto ma in proroga nelle more di un nuovo affidamento entro il quale le fatture devono essere liquidate. Il Comune avrebbe quindi liquidato entro il 22 agosto come stabilito, dando mandato all'esteruto di credito per erogare le somme dovute.